Musica Benvenuti alla puntata di oggi in cui parleremo del sito www.studionutrilab.com abbiamo accennato che abbiamo questo gioiellino, noi lo chiamo gioiellino perché ci lavorano tante persone dietro, stiamo veramente puntando tanto perché ovviamente crediamo fortemente nel web, perché oggi sta veramente prendendo su tanto piede il web, quindi avere un sito e soprattutto avere un sito fatto bene è secondo me un punto a nostro vantaggio, anche perché è un sito progettato per dare dei servizi alle persone che si collegano, perché andiamo subito a spiegare, abbiamo diverse pagine, la pagina degli articoli in cui vengono pubblicati giornalmente ogni giorno, quindi un articolo con di interesse ovviamente nutrizionale oppure vengono descritti dalle patologie, sono articoli veramente interessanti, quindi abbiamo questa pagina dedicata, poi abbiamo una pagina dedicata a un servizio che veramente sto cercando di portarlo avanti che è il forum di nutrizione che lo abbiamo proprio nella home del sito e questo è un servizio dedicato proprio a tutti i pazienti e non pazienti, perché c'è la possibilità ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 20 di fare delle domande e lo staff dello studio risponde a queste domande, quindi mi tocco anche, trovo anche io certe volte piacere a rispondere a dei quesiti nutrizionali che ci fanno le varie persone, che non è solamente a livello della Calabria, ma a livello nazionale, rispondiamo a volte a persone del nord, quindi questo è veramente un ottimo servizio che dovrà ancora, non è appreso piede, perché forse non è stato capito appieno il servizio. Le altre pagine, abbiamo una pagina molto interessante sulle ricette nutrizionali, ovviamente fatte con prodotti di qualità e a volte anche questa pagina ci siamo resi conto che è una pagina che è tanto vista, dove uno può prendere spunto su delle ricette che possono andare da primi piatti, secondi piatti, da dolci, quindi ci sono tante cose, uno può scaricarla tranquillamente, la ricetta e può fare dei piatti deliziosi anche. Abbiamo anche un'interessantissima pagina che poi la ritengo molto utile, che è la prenotazione online, come ad esempio quasi tutti i siti hanno la possibilità del paziente di ipnotarsi online, quindi vedere se c'è un giorno in particolare che vuole venire, vede praticamente l'orario cui desidera, vede magari se la casellina è oscurata, vuole dire che in quell'ora è occupato, quella mezz'ora è occupata, però ha la possibilità tranquillamente da casa di decidere quando vuole venire. Poi abbiamo oltre a queste abbiamo la pagina in cui è spiegata, perché spesso e volentieri mi chiamano e mi dicono, ma come si effettua la prima visita? Allora onde evitare possono andarselo tranquillamente a leggerselo dal sito, viene spiegato in dettaglio come viene svolta la prima visita e per poi andare, visto che ne abbiamo parlato nelle puntate precedenti, i test effettuati, veramente sono tanti e quindi uno può andare a cliccare nel test che deve effettuare, viene addirittura detta se c'è una preparazione da fare per un test al lattosio, viene descritto anche il metodo, la preparazione della sera prima di non assumere probiotici o altre cose, gli vengono date tutte le indicazioni possibili e con questo vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie a tutti!